Francesco Totti è stato beccato sotto casa della nuova compagna Noemi Bocchi. Ad accompagnarlo un fedelissimo amico che ha permesso gli incontri della neocoppia. Ecco le foto. Il magazine chi come annunciato ha pubblicato le ultime foto di Francesco Totti mentre si reca, accompagnato da un amico in una smart, a casa di Noemi Bocchi, di seguito tutti i dettagli e le foto esclusive di quel momento. Leggi anche, Hilary Blasi amante, chi è il ragazzo che incontrava a Milano? Totti ha trovato i messaggi, Totti nuova fidanzata Noemi Bocchi dopo lo scioccante annuncio ufficiale di rottura tra Hilary Blasi e Totti, il gossip è esploso nuovamente su Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco. La ragazza e l'ex capitano della Roma sono stati beccati nuovamente insieme dopo le smentite dei mesi passati. Ad annunciarlo è chi che ha dedicato la copertina a questa storia. Ecco cosa si legge sul magazine, Totti e Noemi, incontro in piena notte a casa di lei Il magazine di Alfonso Signorini si accaparra le foto più succulente del gossip degli ultimi anni e mostra le prime prove ufficiali della storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Ma andiamo con ordine. Le foto dell'incontro risalirebbero a sabato 9 luglio, dunque due giorni prima dell'annuncio della separazione di Totti e Hilary. Gli scatti mostrano la donna rientrare nella palazzina in cui abita verso le 16. Poco dopo, va sul Lungotevere, dove ha appuntamento con un'altra madre a cui lascia la figlia. Rientrata a casa posiziona l'auto in strada e non nel parcheggio privato, in modo tale che quest'ultimo resti libero. Posto auto che sarebbe poi servito a Francesco Totti. E infatti ecco cosa riporta chi, il paparazzo che ha seguito tutti i movimenti di Totti e Noemi sotto casa della donna, decide di appostarsi e aspettare che Totti esca nuovamente dalla casa. E in tarda notte riesce a catturare lo scatto decisivo, non abbiamo conferma su chi sia l'amico in questione che ha accompagnato Totti nei suoi spostamenti e nei suoi incontri con Noemi Bocchi. Ma vi terremo aggiornati, Totti e Noemi Bocchi, ecco le foto insieme ecco le foto pubblicate su chi che mostrano tutti gli spostamenti di Totti sotto casa di Noemi Bocchi, foto di chi Totti ha tradito Hilary Blasi con Noemi Bocchi? Il primo avvistamento a febbraio allo stadio Francesco Totti, come riportava Dago Spia già a febbraio 2022, avrebbe avuto una relazione segreta con Noemi Bocchi, con cui condividerebbe la passione per il padel. La storia sarebbe iniziata a fine 2021 si leggeva sulla Repubblica. Ma come hanno fatto i giornali a scoprire questa relazione? La storia sarebbe stata svelata quando l'ex calciatore è stato vittima di un incidente in auto. Noemi, infatti, pare sia scappata improvvisamente da un locale dove si trovava per una festa per raggiungere Totti. Il quotidiano, inoltre, faceva sapere che all'Olimpico, durante Roma-Genoa, la partita giocata il 5 febbraio 2022, Noemi era seduta a due file di distanza dall'ex capitano. Foto di la Repubblica e voi cosa pensate dopo aver visto le nuove foto di Totti, in macchina dell'amico, sotto casa di Noemi Bocchi? Restate aggiornati con per scoprire tutte le news in merito.